Ciao amici, benvenuti in questo nuovissimo video, oggi finalmente torna il video sulla Juniors del Lucera che ieri dopo due sconfitte consecutive, visto che comunque la scorsa giornata il Lucera ha perso contro il Manfredonia 4-2, il video che purtroppo non ho fatto visto che quel giorno ero in trasferta a Bisceglie per vedere appunto il Lucera giocare contro il Don Uva, vabbè comunque la prossima volta cercherò di fare meglio. Dunque allora, dicevo, la Juniors del Lucera che ieri dopo due sconfitte consecutive è tornata la vittoria, 3-2 in quel di Sansevero contro la Gioventù Calcio Sansevero, che dire, parliamo della partita, un Lucera che è partito molto bene nei primi 20 minuti, sfiorando il vantaggio al secondo minuto con Cognetti che di controbalzo sfiora il palo alla sinistra di Vitulano, poi Lucera che al diciottesimo passa in vantaggio con Curci che amministra una bella azione con Lopez, Lopez serve appunto Curci che è in trenare di rigura e più con il destro la mette alla destra di Vitulano per il vantaggio del Lucera. Gioventù Calcio Sansevero che poi trova il pareggio con Tanti Monaco che ne approfitta di uno sbaglio difensivo da parte di Faccilongo che perde un pallone purtroppo sanguinoso e Tanti Monaco si trova davanti a Barbaro che lo spiazza per il gol dell'1-1. Poi diciamo che dopo quel gol ci siamo un po' innervositi, visto che dopo il gol della Gioventù abbiamo iniziato a fare alcuni sbagli difensivi che veramente sono stati preoccupanti, cioè sono stati veramente molto preoccupanti. Vabbè poi è finito così il primo tempo, il secondo tempo che trova il vantaggio della Gioventù con lancini avanti verso Tanti Monaco che si trova davanti a Barbaro e serve il pallone verso Brandonisio che doveva solo spingere il pallone in porta per il vantaggio della Gioventù. Poi diciamo che dopo il gol del 2-1 la Lucera incomincia a giocare, si sveglia in pratica, è come se avesse ricevuto uno schiaffo in faccia da qualcuno e avesse detto oggi adesso devi incominciare a giocare. La Lucera appunto dopo il gol del 2-1 ha iniziato a creare tantissime azioni, veramente si può mangiare anche tanti gol soprattutto, visto che comunque la prima occasione è stata di Colasanto che ne ha approfittato di una sbaglio, diciamo di una disattenzione della difesa della Gioventù. Diciamo che ci ha messo lo zampino, poi palla che è finita fuori di poco. Poi la Lucera che si mangia un'altra occasione con Curci che la mette in mezzo verso Bianco che a tu per tu con Vitulano si fa ipnotizzare. Vitulano che io ha fatto anche una grande partita, il portiere della Gioventù ha fatto tante belle parate, tanti grandi parate soprattutto. Poi dopo questa occasione Lucera finalmente trova il gol del 2-2, cross in area di rigore da parte di Curci sul calcio di punizione, Colasanto spazza via il palone con i pugni, palla recuperata poi da Carrozza che la mette in mezzo per Sciotti che ci mette il piede per il gol del 2-2 del Lucera. Poi appunto per il gol del 2-2 il Lucera continua sempre ad attaccare e alla fine trova il gol del 3-2 con Ramuno che vince un contrasto difensivo contro un difensore della Gioventù. Poi salta Vitulano con un pallonetto e poi a porta libera realizza il gol del 3-2. Gol importantissimo perché comunque nel secondo tempo abbiamo attaccato solo noi, tranne che appunto i primi minuti in cui abbiamo faticato. Poi per il resto del secondo tempo abbiamo secondo me meritato di vincere questa partita. Poi Lucera che poteva fare anche il gol del 4-2 con Lopez che appunto poteva servire il pallone ad altri tre suoi compagni perché in pratica eravamo, se non sbaglio, 4 contro 1. Sì, eravamo 4 contro 1. Lopez invece ha preferito fare da solo, ha tirato, poi Vitulano ha fatto un'altra parata e ne cadò il 4-2 alla Lucera. Poi dopo sei minuti di recupero, dopo che appunto la Gioventù Calcio Sansevero cercava il gol del pareggio, l'arbitro ha decretato il triplice fischio per il 3-2 del Lucera che si porta a casa tre punti importantissimi, aggancia anche la Gioventù in classifica a sette punti. Che dire, vittoria importantissima però comunque c'è a dire che contro un avversario che comunque tecnicamente era inferiore a noi abbiamo abbastanza faticato ma comunque l'importante era vincere. Poi è anche bello vincere così perché appunto perdiamo 2-1 e abbiamo vinto 3-2. L'importante era portarsi a casa questi tre punti. Va bene ragazzi, andiamo a vedere gli altri risultati, chiaramente appariranno qui alla vostra destra dove il Real City che ha vinto 3-1 in casa dell'Atletico Apricina, stesso risultato per la Cosmano, 3-1 contro lo Sporting Apricina, poi il Foggian Cerit che ha vinto 5-1 contro il Sansevero, il Lucera che ha vinto 3-2 contro la Gioventù Calcio Sansevero e infine Manfredonia-Nova Daunia è stata rimpiata perché appunto c'è stata la nebbia in quella di Monte Sant'Angelo. Bene, questa è qui la classifica dove il Foggian Cerit comanda con 15 punti, poi c'è la Cosmano a seconda a 13, a 9 punti il Manfredonia, a 7 punti Lucera, Sporting Apricina, Real City e Gioventù Sansevero, a 3 punti poi c'è la Nuova Daunia, a 1 punto il Sansevero e infine a 0 punti l'Atletico Apricina. Bene, prossima giornata che sarà la sesta di questo campionato, la quarta ultima del girone di andata dove Lucera giocherà in casa contro l'Atletico Apricina, fanalino di coda di questo campionato. Poi l'altro partire ci sarà il Big Match, derby foggiano tra Cosmano e Foggian Cerit, poi Real City contro Gioventù Sansevero, Sansevero contro Nuova Daunia e infine Sporting Apricina contro Manfredonia. Che dire, affrontiamo l'Atletico Apricina, fanalino di coda, dobbiamo per forza vincere, ma dobbiamo portarci a casa questi tre punti, ma ovviamente non sottovalutiamo l'Atletico Apricina anche se ultimo in classifica e nell'altra giornata ha preso alcune goleade, però non dobbiamo sottovalutarli, giochiamo come sappiamo, dobbiamo ripartire dal secondo tempo di ieri che abbiamo fatto una grande partita ieri nel secondo tempo e se giochiamo come abbiamo fatto nel secondo tempo questa partita ce la portiamo tranquillamente a casa. Che dire, va bene ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto, commentate e iscrivetevi al mio canale, noi ci vediamo domani con il lunedì Lucerino di Lucera Capuzzo che si giocherà oggi alle 14.30 al Comunale sperando bene, che dire, sempre forza Lucera e noi ci vediamo alla prossima, ciao ragazzi!